Assessore, questa è la prima iniziativa dell'assessorato alle politiche giovanili, un'occasione offerta ai giovani di questa città per capire quali sono le possibilità della Regione. Esattamente, è un incontro e un dibattito a cui tenevo particolarmente. Volevo che i giovani sapessero di questa occasione, occasione che permetterà a loro e probabilmente a qualcuno del nostro territorio, del Comune di Mesagne, di realizzare qualche idea. Qualcuno già le ha realizzate e ha utilizzato questi fondi di principi attivi, di bollenti spiriti. Adesso c'è una nuova occasione? Sì, abbiamo avuto delle eccellenze, diciamo, dei ragazzi che con loro ingegno hanno sviluppato due bellissime idee sul territorio mesagnese. In particolare mi riferisco a Promocultura e a Salento Fan Park. Qual è la politica che c'è dietro a queste iniziative regionali? Esattamente, questi sono dei bandi che premiano i giovani, dei giovani fra i 18 e i 32 anni ed offrono loro la possibilità di sviluppare una loro idea finanziandola con 25 mila euro. Questa è una iniziativa, abbiamo detto, la prima del suo assessorato. Lei ha in programma altre idee? Sì, sono delle idee naturalmente a lungo termine che svolgerò in futuro. Naturalmente riguarderanno sempre il mondo giovanile, ma coinvolgeranno anche gli altri assessorati. Sono delle idee che riguardano anche la responsabilità sociale dei giovani. I giovani devono essere accostati, quindi nel processo ci sono dei problemi legati al mondo della droga, dell'alcol. E quindi i giovani devono essere anche presi in considerazione per questo e non lasciati soli. Grazie. 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 Grazie.